Eccoci con la decima parte di Mario Kart Wii in Wi-Fi battaglia Allora c'è un hacker HTRA che è del 9251 Io ho 8523, adesso sto in squadra con uno di 9000 E come vedete sono salito un bel po' di 300 punti Che ho colpito di 300 punti rispetto alla prima parte E le ultime tre parti E al palmoncini, oh se devo fare anche ok Eh, insomma, ho visto abbattere i primi per aspettare Eh, stavo con un altro, però si è andato, si chiama Spunkie Makeup a 6 Peccato però Vediamo Ecco, vedete il fan chi sta già nella rinso Tattedra Tattedra Ora dovrei colpire E la Si sta nella colpazia Dove ho colpire quello che ammino punti Stare bene Questo po' Tutto Ecco 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 Se solo Ecco Preso Eh, preso un corno Solo siamo No Eh, capite chiaramente che c'è un hacker Da tutti i gucci blocchi e lancia Ecco Ecco Un po' che rottura però Beh, quindi stiamo perdendo, dovremmo avere Oggetti fortissimi Cinque a zero sono partendo E di qua No Ok, un punto fatto Vai Preso 6 Ecco Il guccio blu va al mio compagno andranno a me, sicuro Così andrà a finire No Dove è? Non di qua Non di qua No No Ma dai, tipo il tuo cerno, c'è sempre uno cerno Ma che è culo Vai No 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 Cos'è più che la gioca tutto il tuo cerno è andato Ma non è per niente simpatico sto atto Un atto Preso Ok Preso Quattro Benissimo Preferisco usare gli oggetti Vediamo Tolto, tolto, sì Beh, non sta andando così male questa battaglia, eh Olè, sto a dirmi da fungo No Per poco Per un punto Per un punto abbiamo perso Terzi Meno sette non è assai Più quattro Htr Hacker Prossima battaglia Qualcuno Ah sì, il mio amico ha creato la stanza Vabbè Per un punto Per un punto Per un punto Per un punto Eravamo pari Io facevo sette punti Il mio amico faceva quattro Che dovevo primo Ma Dovevo avere una vittoria bellissima Cioè Io dovevo vincere Dovevo essere il primo Per quanto ho fatto più punti degli altri Vabbè Pezza blocchi Ok Siamo andati L'hacker è quella di 5 mila Ancora vediamo di prendere un passio di monete anche se siamo solamente in 3 Che ca Abbiamo vinto No Più giro Eeeh Procima battaglia E' un bug stranissimo che ci è andato quello della nostra squadra Ecco Perfetto Ora siamo io contro Dark Crusoe Che cavolo di bug Vabbè 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 Ok Cosa sei un 5 mili e mezzo No E' un momento che cosa ha aperto Perché il 2 Non è che sia per la più di tanto E' un po' Mi piace Se Ma è morto Con questo punto vinciamo Però che ora non Devo solamente non farmi fare conto Eh Sarà un po' noioso questa battaglia Ovviamente Perché Vi vedrete sfuggire dalle varie situazioni Però La faccio vedere comunque Bomba Vediamo se Vediamo se Preso Sì Ma tu, fino a mai che l'ho sfiorato. Ma tu, qualche volta faccio il punto. Teter, 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 teter. Se alla prossima battaglia, quando sta scritto un numero di giocatori previsto per la prossima partita, siamo solamente due, interrompo perché non so, sarà un po' noioso e comprendo. Ma tu, che a me è successo? Vuoi farti fare il quarto punto? Non perca la stella. A me, da un minuto. Tu, se ti prendevo, che la manco. Non viisco solo, lancia. Non so, sereno, lanciolo. Ecco Ma si può correre in unità. a voler non mi freghi bello un punto a porto 15 secondi dai nonostante si fermino per fare le altre due punti veloce ah perfetto ma l'amore ha vinto meno 7 di prima più e 10 di ora ok ah 3 dai facciamo un altro se poi vedo che non si è andato quello la non continuiamo è artiglio il mio amico questo è il mio amico vabbè facciamo ormai l'abbia iniziata mannaggia sta un pochino sballata perché vabbè è anche un pochino noiosa della verità anche devi usare Tartossi Tartossi è il miglior personaggio della battaglia lo so sempre mi pare che il limite di modi per 2 giocatori massimo massimo dovrebbe essere 21 dovrebbe eh tante 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 quattro solamente una gara di chi prende le monete 9 10 eh ma vabbè vedo vabbè 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 e non sarebbe altro che i tempi di te ora ho detto che non ha tirato e' come Non c'è niente da fare, non mi vuole colpire. Vabbè, ma so perché io non mi faccio colpire tanto facilmente. Ah, è caduto. Affellato. No. Andiamo su. Per la prima. Morirete. Eh, bello, io questo oggetto ce l'ho da inizio alla battaglia. Beh, vabbè, che poi mi serve altro che mi amico. Proprio, mentre ho usato la stella, è diventato invulnerabile. Non male. Non schivate. Voglio vedere chi... No, è riuscito a superare, ma perché è la stella, ecco, perché... Beh, poi andò ne così tanto, non so questa battaglia, ma... Dopoprutto. Abbiamo qualche altro oggetto per minaccio, non so più. Scusate, il bene di questi titoli sottofondo. Ehm, bella male, ho vinto. Vabbè, abbiamo fatto questa parte normalmente con tutte le altre. Ho più tre. E ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.